Salve a tutti e benvenuti su Holy Beats TV, all for you, tanto prima o poi viene a porre tu, 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 su Holy Beats TV. Andiamo a combattere con un'altra piccola canzoncina che Holy Beats TV regala a tutti quelli che hanno il piacere di ascoltarla, il titolo è Tricolore. Vado, uno, due, tre. Vado, uno, due, tre. Vado, uno, due, tre. Italia, uno, due, tre. prima o poi viene a Borretto puoi ricevere ma è stato fermo ma quando mai sono le pizze tv non si fermerà mai nonostante parassiti e topi giganti che emagnano di tutto noi andiamo avanti con questo vi saluto alla prossima